Domenica, nel corso di un'operazione in Belgio a Tongeren, le forze di polizia locale dell'Interpol, in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e con i militari della stazione Carabinieri di Santa Caterina Villarmosa nel Nisseno, a margine di un'articolata e approfondita attività info-investigativa, hanno individuato e catturato GDM di 35 anni residente a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. L'uomo deve scontare la pena definitiva di un anno e dieci mesi di reclusione, in quanto responsabile di rapine in concorso e sequestro di persona commessa a fiume di Nisi nel Messinese il 30 gennaio 2013. Dopo l'irrevocabilità della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, l'uomo si era sottratto all'arresto e dal maggio 2019 risultava irreperibile. Così Domenica è stato rintracciato e arrestato in seguito al mandato di arresto europeo e affidato a un carcere belga, in attesa di essere estradato in Italia dove sconterà la pena.